Mario Segni Nel biennio in cui suo padre Antonio è stato presidente della Repubblica Italiana, cioè dal maggio del 62 fino al dicembre del 64, lei era poco più che ventenne. È difficile ricordare un periodo così lungo, ma sicuramente nel ricordo di un giovane cosa emerge, che cosa le ritorna nella mente di quel momento? Chi era suo padre? Io ero appena laureato quando lui fu eletto presidente della Repubblica e il giorno della sua elezione lo ricordo perfettamente perché lui fu eletto la sera verso le 8, le 9, dopo una delle tante giornate di votazioni dure, complesse, eccetera, e ci fu una votazione nel pomeriggio in cui sfiorò il cuore, fu ripetuta la votazione poche ore dopo e quindi la Serpio ero, per la verità, con grande tensione. Attenzione di questo, non ressi a casa a vedere cosa, e uscii per strada a camminare. E mi ricordo che ero esattamente in via Sistina, pensi a un ricordo, stavamo al centro, e a un certo punto, passando davanti a un bar in cui c'era molta gente, la tv accesa e la gente che ascoltava, che era molto seguito, segni saragat, una specie di duello, senti un grande applauso. Capì che era stato eletto perché era solo lui che poteva quella sera avere il cuore, entrai molto emozionato, e il barista che mi ricolobbe, ma io non me ne accorsi tanto di emozionato, mi disse, è stato eletto suo padre, mi disse testualmente. Io però ero tanto emozionato che scappai a casa. Poi però quel barista che in realtà conosceva, lo rivide e mi disse, guardi, lei non si è neanche accorto. Era talmente emozionato. Era talmente emozionato, glielo ho detto, quindi è un ricordo che mi è rimpresso. Di quel momento in particolare. E questo, diciamo, è un ricordo bellissimo, ma diciamolo subito anche per entrare nel tema del suo testo, quel biennio è un biennio che viene descritto da molti, coperto anche da un'ombra. Cioè si parla di un golpe, in realtà la notizia di questo tentativo comunque di golpe uscirà soltanto nel 67 sull'Espresso con un'inchiesta di Lino Iannuzzi. E diciamo, da allora tantissimi hanno raccontato di questa vicenda o, come dice lei, hanno continuato a parlarne forse non indagando fino in fondo. Lei a distanza di quasi 60 anni è sì il figlio di quel presidente Antonio, ma ha voluto scoprire qualche cosa di più. In realtà mi sono proprio deciso di approfondire quello che sapevo, che ricordavo. Non ho mai avuto dubbi che mio padre potesse essere coinvolto in una cosa del genere. Né in cielo né in terra, per chi lo conosceva, ma chiunque potesse studiare un minimo di storie. Però a un certo punto vedi con sorpresa alcuni anni fa, in una delle occasioni in cui il giornale ripara questi argomenti, una serie di articoli molto colpevolisti, per così dire, rimasi stupito. Andai a vedere un po', a studiare, a guardare la pubblicistica, i libri, e scopri con mia sorpresa che era rimasta intatta praticamente la versione scalfariana, chiamo così, quella del direttore dell'Espresso. Il direttore dell'Espresso, su cui Iannuzzi pubblicò il famoso scopo, cioè lì c'è stato un colpo, allora dicevamo colpo di Stato, un tentativo colpo di Stato, il Presidente della Repubblica era, secondo alcuni coinvolto, secondo altri subiva, ma insomma c'era stato comunque qualcosa di grave che aveva cambiato la storia italiana. Mi sono messo a studiare, a ricercare profondamente, e nei due anni passa che ho impiegato, per fare questo studio, sono andato verificando, direi quasi scoprendo, con mia sorpresa, devo dire, e con rabbia crescente, che non è che si sia trattato di una versione forzata, si è trattato veramente di una costruzione, un racconto di cose false, non vere, inventate. Lei infatti parla di origine delle fake news. Assolutamente, perché questa è stata una gigantesca fake news, cioè è stata fatta credere che una grande campagna mediatica, molto abile, molto efficace, agli italiani, che c'era stato un tentativo di colpo di Stato, comunque un fatto eversivo, molto grave, perché la storia è stata cambiata con minacce militari, e non è successo assolutamente niente. Ricordiamo un attimo che cos'era questa cosa, cioè il piano solo, così chiamato, che era chiamato piano solo perché riguardava soltanto una arma, quella dei carabinieri, dove il nome che emergeva era quello del generale De Lorenzo. Che cosa avrebbe dovuto fare questo piano solo? Guardi, i piani di emergenza ce ne erano i carabinieri, c'erano notoriamente e pubblicamente presso il Ministero dell'Interno del cosiddetto piano Vicari, erano piani che in qualunque momento, credo, qualunque polizia o qualunque corpo di ordine pubblico adottano l'evinenza di problemi di ordine pubblica, cioè di attacchi pericolosi alla sicurezza dello Stato, ma certamente ci sono anche adesso, come è giusto che ci siano in qualunque Paese Stato sello. Ma allora, non dobbiamo dimenticare che noi eravamo nel 1960, cioè in piena guerra fredda, in quel momento eravamo nel 1964, tre anni prima era stato eretto il muro di Berlino, due anni prima Khrushchev aveva messo i missili a Cuba, il Partito Comunista era, e si è visto dopo anche storicamente, legatissimo totalmente all'Unione Sovietica ed era il secondo partito italiano, quindi l'Italia è in una situazione di grande delicatezza democratica. È un piano di questo genere, qualunque Stato serio se lo sarebbe dato. Non dobbiamo dimenticare che suo padre era stato anche il primo Presidente della Repubblica proveniente dal Partito della Democrazia Cristiana. E lei nel suo testo, diciamo, suggerisce come lettura il fatto che era forse un attacco proprio alla democrazia cristiana, questo tentativo di coinvolgere un suo esponente come suo padre. Beh, lo è diventato nel corso degli anni, perché a partire da questa interpretazione del piano solo, e siamo già al 70 praticamente, perché in realtà poi la cosa esplode nel 67, 68, il processo è di quegli anni, nasce una corrente fortissima. Erano gli anni in cui la cultura e l'informazione erano dominati dalla sinistra e soprattutto dal Partito Comunista, nasce la interpretazione che convince anche essa gran parte dell'Italia che la democrazia cristiana è il partito golpista. Che sì, gli attentati terribili da Piazza Fontana alla Brescia sono fatti da neofascisti, sono fatti da organizzatori che non c'entrano niente, ma che il grande vecchio, la grande regia che fa capo al partito e alle forze di maggioranza che vogliono sbarrare la strada all'avanzata della sinistra che senza questi complotti si preparerebbe a conquistare il potere. Quindi lei dice che non era possibile attaccare la democrazia cristiana sotto un profilo di incapacità amministrativa, non era possibile attaccarla su altri fronti, allora viene attaccata sulla legalità. Assolutamente, ma non dimentichiamo che in quegli anni, doveva essere il 74, qualche anno dopo, Pasolini, il più grande e più importante scrittore italiano, scrive sul Corriere della Sera, il più importante giornale italiano, un articolo in cui dice «Io so, io so chi sono i mandanti delle stragi, io so chi ha fornito gli esplosivi e ha protetto i dinamitardi, sono i dirigenti della democrazia cristiana, non ho le prove, ma lo so». Quindi era un'accusa di assassinio, di complottare contro lo Stato, a ripensarci oggi una follia totale come tipo di accusa. Ma l'Italia è stata convinta da questa gigantesca gran cassa che è stata fatta a battere. C'è un altro aspetto che lei chiaramente sottolinea e che in effetti fa pensare, che in questo ipotetico golpe che era stato orchestrato, si doveva orchestrare, c'erano tre figure che sarebbero state, diciamo così, attaccate dal golpe stesso, cioè Moro, Nenni e Saragat. Ma tutti e tre nel 66 diventano l'uno premier, l'altro vice e l'altro presidente della Repubblica e nominano proprio quel De Lorenzo capo di Stato maggiore. Sì, questo argomento io lo dissi già anni fa in un articolo proprio su Repubblica, tra l'altro. E varie altre volte. È un po' simbolare. Nessuno mi ha risposto. Perché non si può rispondere. Perché è talmente evidente, la cosa è talmente assurda, è talmente insostenibile, è talmente improponibile che da sola basta a smontare tutto questo grande castello di accusa che poi veramente nel libro io le ho smontate una per una. Non c'è assoluta cosa. E guarda che io non ho scoperto documenti nuovi. Io ho trovato in casa stranamente delle lettere in quel periodo, molto interessanti, che illustrano la situazione politica. Ci sono degli omissisi però che sono stati adesso svelati. Sì, aspetta, arrivi un attimo degli omissisi. Però in realtà io ho semplicemente riletto, ma letto esattamente le cose che tutti sapevano, ma che erano state raccontate in modo opposto. Tanto è vero che poi i protagonisti dello scandalo vengono clamorosamente condannati al Tribunale di Roma. E di qui la difesa, soprattutto di Scalfare, gli omissi. Noi siamo stati condannati perché sono stati nascosti ai magistrati stessi le prove di quello che diciamo. Ma nel 1990 è stato scoperto tutto. E sono passati 30 anni e voglio invitare qualcuno a dirmi se c'è una carta, di quel mare di carte che hanno esageratamente coperto, che possa incriminare o provare a dire qualcosa. C'è ancora qualcosa da scoprire. E che riguarda le carte riguardanti il KGB in Italia, il Servizio Segreto Russo. Perché c'è stato negli anni 90 chi ha sostenuto che i giornalisti famosi erano stati ispirati, spinti addirittura al KGB. Onestamente non so se sia vero e non ho trovato una documentazione che possa provare. Però gran parte di questa documentazione, questa sì, non per la decisione dei nostri governanti, ma perché dal Servizio Segreto Inglese è stato ancora mantenuto il segreto su queste carte. Quale fu la reazione che lei si ricorda, o che ha studiato poi successivamente, di altri esponenti della democrazia cristiana nei confronti di suo padre, in quel esatto momento? Fu di grande solidarietà e amicizie. Io mi ricordo che proprio il giorno che scoppiò il famoso scoop a Roma, per caso mi aveva appato, anche il giorno mi trovavo a Roma, andai a trovare Mariano Rumi, molto amico a Piazza del Gesù, telefonammo assieme a Moro, Presidente del Consiglio, per ringraziarlo, di come aveva difeso Antonio Segni, ma nessuno aveva possibilità di dubbi, di interpretazioni, anzi, per la verità, nessuno si aspettava che poi la campagna arrivasse a questo punto di intensità e vincesse, perché sull'opinione pubblica ha vinto, gli italiani sono stati convinti di questo. Io il libro l'ho scritto, anche se è passato tanto tempo, perché ci deve essere qualcuno che ricorda. Attenzione, non è vero, quello che avete studiato sui libri di storia è falso. C'è anche questa teoria sociologica un po' complicata del doppio Stato. Sì, sì, ma è stata elaborata in quel periodo, sostenuta da un grande storico che è De Felici, il fratello di Renzo De Felici, lo studioso liberale, e che appunto diceva la classe dirigente italiana in realtà ha un altro ordine di organizzazione, che poi è quella atlantica, perché poi naturalmente tutto veniva fatto, riportato il grande vecchio, che era l'organizzazione atlantica, negli Stati Uniti e così via. Ma ancora oggi, per qualsiasi cosa succeda, un po' fuori dalle righe, c'è sempre l'idea che ci sia qualcuno che riesce a macchinare in qualunque parte del mondo. Sì, io credo che questa sia un'altea probabilmente diffusa, ma in Italia particolarmente sviluppata. C'è qualche parte del mondo e poi c'è l'idea che sotto qualunque problema poco chiaro ci siano i servizi segreti. Io devo dire, tanti anni dopo, sono stato presidente dell'organo parlamentare che controlla, non ho responsabilità di rete. E quindi ho seguito questo delicatissimo campo di azione, che è una cosa molto delicata e molto importante, ma francamente non mi è mai sembrato che avessero il mondo o l'Italia in mano. Sono tutte esagerazioni e lucubrazioni. Con quello che lei ha scritto qua dentro, che è frutto, come dice lei, di uno studio di una vita sicuramente, e un po' più concentrata in questi ultimi tre anni, quante nubi, pensa, riuscirà a spazzare via da quella memoria che si è ormai calcificata? Eh, questo non lo so. Spero che gli storici del futuro siano più attenti di quelli del passato, però voglio dire una cosa. Qui le cose da spazzare, come ho detto, sono molte di più. Perché tutto il decennio 70, nel quale mio padre ormai non c'entra più, perché si dimese dopo una malattia, come lì, sa, che è continuata. L'articolo di Spadolini, quello che parlavo, è del 1974, se non sbaglio. Quindi il suo padre non c'era più. No, non c'era più. Quindi è tutta, in realtà, un lungo periodo in cui la democrazia cristiana è stata dipinta come il partito anticostituzionale, il partito del golpe, il partito della violenza di Stato. E devo dire una cosa. Chi ha condotto questa deletteria e mistificante campagna è una grande responsabilità. Perché questo ha costituito un alibi psicologico forte per il terrorismo rosso. Perché nella mente di migliaia di giovani si è messa l'idea che c'era uno Stato violento. E quindi, che fatalmente, si era portati a pensare che allo Stato violento si risponde con la violenza. Ricorderemo ancora Mario Segni, quando entrò in quel bar e gli dissero suo padre è il nuovo presidente. Mario Segni, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.